Un TAR in salute nonostante le difficoltà, ma permane una carenza cronica e gravissima di magistrati. La pandemia nell'anno appena trascorso non ha influenzato più di tanto le attività del Tribunale Amministrativo, come era stato nell'anno precedente. Il giudice amministrativo nel 2021 è stato coinvolto nei settori più delicati, salute, edilizia ambiente, sicurezza, lavoro, istruzione e immigrazione, testimoni in diretto dei travagli che hanno interessato la società. Parole del presidente del TAR, Umberto Realfonso, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Ha sottolineato, Realfonso, gli ottimi rapporti con l'avvocatura e con la quasi totalità delle amministrazioni. Tuttavia, ci sono zone d'ombra, ha detto, soprattutto in relazione a molti spropri iniziati e non conclusi. Nota dolente l'aspetto logistico dell'ufficio aquilano. Per il presidente l'anno di lavoro è stato intenso e proficuo, anche se il trend di entrata è inferiore comunque agli anni precedenti alla pandemia. Dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 sono stati depositati 425 ricorsi, 1.221 i provvedimenti adottati, i fascicoli definiti sono stati 902, 400 con sentenza e diminuito il numero dei ricorsi pendenti, che sono 1.431. C'è stata una diminuzione del contenzioso arretrato, grazie anche ad udienze straordinarie, nonostante la carenza cronica di organico di magistrati, un problema per lui gravissimo. Quest'anno abbiamo fatto meglio, e lo dico con malcelata soddisfazione. Nel senso che abbiamo introitato 425 ricorsi, ne abbiamo esitato i 902, quindi con abbattimento il 40% dell'arretrato. Che non è andato a discapito anche della serietà delle nostre decisioni, in quanto comunque l'85% delle nostre sentenze o non viene appellato, o se viene appellato l'appello viene respinto. Il restante 15% è in attesa di giudizio, insomma, è per noi una grande soddisfazione. Il futuro invece è abbastanza grigio, nel senso che se non ci danno l'ulteriore magistrato non riusciremo a fare di più. Chi verrà dopo di me, perché questo purtroppo è il mio ultimo anno, insomma, non potrà fare di più perché non si può fare di più. Io stesso ho steso 52 decisioni a cui non ero neanche tenuto, l'ho fatto per spirito di corpo e di servizio, insomma. Un dato positivo è quello della definizione dei processi. La sezione dell'Aquila è a meno della metà dei tempi degli altri TAR, al terzo posto assoluto tra tutti i tribunali. Tra mancata impugnazione di appelli respinti, l'85% delle sentenze del TAR è divenuto definitivo. Tra i provvedimenti più significativi, la sentenza che ha ritenuto legittimi, i provvedimenti assunti dalla Regione Abruzzo in ordine alle restrizioni legate al Covid, ma anche quelli relativi a vari appalti.